Io ho sentito che il motore deve essere in origine del motore di serie. Il motore di serie conserva la letteratura di cilindri e l'angolo del serie. Ma forse io che il motore è a scopo di che lo vedo in questa stanza, con il motore di cilindri, il pacchetto motore per le forze, come soluzione potrebbe essere una nuova soluzione, anche a riscaldi, ma era una soluzione un po' con...